A freddo, a conclusione delle iniziative organizzate in occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci, si è scatenato uno scontro invece molto caldo, anzi infuocato, tra l'ex del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista e l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. È stata una botta e risposta. La prima botta alla sferrata Di Battista, che sui social ha scritto. Il 23 maggio del 1992, esattamente 29 anni fa, Giovanni Falcone saltava in aria a Capaci, insieme a sua moglie e a tre uomini della scorta. Alcuni mesi prima Falcone era stato aggredito verbalmente in TV a Samarcanda da un giovane democristiano, Totò Cuffaro, divenuto successivamente presidente della regione Sicilia, prima di essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Quando finì in carcere Pier Ferdinando Casini, che oggi, udite udite, sogna il Quirrinale, lo elogiò per il suo rigore morale. Immediata e piccata è stata la replica di Cuffaro, che ancora sui social l'ha controbattuto. Di Battista, da buona populista in ricerca di improbabili consensi, propone, in un'occasione così dolorosa e significativa per noi tutti siciliani, una palese falsità. Se avessi impiegato il suo tempo non a ricercare demagogici consensi, ma si fosse preoccupato di ricercare la verità del mio intervento a Samarcanda, avrebbe di certo saputo che mai ho attaccato Giovanni Falcone, bensì il magistrato Taurisano, che in quel periodo aveva messo sotto indagine l'onorevole Mannino. Il tempo mi ha dato ragione in quanto, anche se Calogero Mannino ha dovuto subire 20 anni di processo, è stato totalmente assolto da ogni accusa. Di Battista, se si fosse meglio informato prima di sproloquiare, in una così importante giornata, avrebbe saputo che sono stato condannato per favoreggiamento aggravato dall'articolo 7, quindi alla mafia, e non per concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe di certo evitato di ricevere la mia querela per diffamazione, che fra pochi giorni sarà da me e dai miei legali prontamente depositata. Avrebbe saputo la verità dei fatti storici, così da non potere diffamare in maniera così vergognosa la mia persona. In un giorno nel quale Di Battista avrebbe dovuto far trionfare la giustizia e la verità, ha preferito far trionfare l'ingiustizia e la bugia. Non dovrebbe essere di certo questo il comportamento di uno che ritiene di essere un moralista e si atteggia al leader, ma è un problema suo. E a fronte di tutto ciò Di Battista ha confermato il post, ma ha precisato. Ho scritto che Cuffaro è stato condannato per concorso esterno alla mafia, non è così, è stato condannato per favoreggiamento. Mi scuso per l'errore.